Premio Euromed International 2023. La cerimonia si è svolta a Martina Franca nella sala consigliare di Palazzo Ducale, un riconoscimento per le personalità che si sono distinte per il loro impegno a favore del dialogo tra i paesi del Mediterraneo. Un'iniziativa organizzata dal Gran Priorato di Puglia del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, Cavalieri di Malta, in collaborazione con Base24. L'elettorità si svolge intanto a frequentare alcuni paesi laddove conosciamo il bisogno di aiuto da parte nostra e quindi laddove noi possiamo dare con una mano per quello che possiamo nelle nostre forze noi siamo sempre presenti. Il premio Euromed International 2023 SJ Malta nasce per mettere insieme le imprese, i popoli e quindi creare un ponte per realizzare un laboratorio. Un laboratorio attraverso un osservatorio che questa sera viene creato appunto con tutti i premiati perché questo osservatorio è composto dal mondo delle imprese, dal mondo delle università, dal mondo del legale, dal mondo di chi opera ogni giorno all'interno dei territori dell'euro mediterraneo, possano praticamente iniziare a dare i giusti contenuti a iniziative che possono produrre non solo un dialogo tra i popoli ma anche un dialogo tra le imprese del Mediterraneo per crescere sempre di più.